Eccoci qua, buon lunedì, buon inizio settimana a tutti voi, torniamo in diretta anche oggi, apriamo questa settimana di programmazione televisiva con il nostro solito appuntamento dedicato al mondo delle missioni, quindi iniziamo anche per questa puntata un nuovo viaggio carico di storie e soprattutto carico di tanta umanità. Ben trovato al nostro compagno di viaggio fra Raffaele Mangiocotti, ben trovato, pace e bene, e benvenuto all'ospite di questa mattina fra Francesco Monticchio, missionario cappuccino dei Cappuccini di Puglia. Benvenuto e buongiorno. Grazie, ben trovati a tutti, è la prima volta che mi trovo qui nella Tele Padre Pio, sono contento naturalmente anche per comunicare ciò che il Signore realizza nella storia degli uomini, dei popoli e delle culture. E siamo contenti anche noi perché la sua è davvero una straordinaria testimonianza per dirla come lui, di ciò che il Signore disegna nella vita degli uomini, perché ha raccolto tutto in un libro, 70 anni in Mozambico, per la liberazione dell'uomo, che è la storia delle missioni dei frati cappuccini in Puglia, ma è anche e soprattutto la storia della sua personale esperienza e quindi avremo modo di chiacchierare con lui, ci aprirà davvero una finestra molto interessante. Ma prima di entrare nello specifico di questa missione, di questa realtà, vogliamo vedere fra Raffaele e fra Francesco il nostro consueto video messaggio del nostro carissimo fra Antonio Di Mauro, che lo abbiamo definito un po' l'inviato nelle missioni dei frati cappuccini della provincia di Sant'Angelo e Padre Pio in Chad. Ci sta preparando ogni settimana un piccolo video in cui ci racconta che cosa fanno lì i frati cappuccini, che cos'è la missione in Chad e in Centrafrica, guardiamo oggi che cosa ci presenta. Carissimi amici di Padre Pio TV, giunca a ciascuno di voi il saluto francescano di pace e bene. Come avevo detto la volta scorsa, oggi iniziamo il nostro percorso per farvi conoscere tutte le opere che sono state realizzate dai nostri frati missionari e che noi stiamo cercando di portare avanti. Oggi mi trovo davanti al nostro collegio cattolico. Giderò la videocamera per farvi conoscere questo collegio. Come potete vedere, qui si chiama Collegio d'Italia di Bebocum. Questo collegio è stato realizzato per iniziativa di Padre Leone di Maggio e grazie alla collaborazione economica di tanti italiani. Quindi la gente di Bebocum ha voluto intitolare questa scuola all'Italia per dire grazie all'Italia per questo gesto generoso. Entreremo anche in una classe adesso per farvi conoscere un po' la nostra realtà. Ho chiesto il permesso al professore e vedremo la sesta classe che equivale alla nostra prima media. Facciamo un po' di silenzio, questa è la classe, c'è il terrore degli studenti che stanno studiando la matematica. Continuo il nostro itinerario. Ecco, vorrei farvi vedere un piccolo particolare. Come potete notare ci sono delle strutture imbiancate con il colore bianco e altre strutture imbiancate con il colore giallo per non confondere le strutture cattoliche con le strutture dello Stato. Le strutture di colore bianco sono le strutture cattoliche, mentre le strutture di colore giallo sono per lo Stato. Vi ringrazio tanto amici carissimi per questa vostra attenzione e spero che la prossima volta riesco a farvi vedere anche altre missioni, le missioni di BAM, le missioni di Goree, le missioni di Mondo. Alla prossima e a tutti voi pace e bene. Noi ringraziamo davvero Frantonio per queste incursioni che ci portano in quest'altro mondo. Tra l'altro anche le immagini di tanta natura, tanto verde, è bellissima anche quella classe, tra l'altro affollatissima di ragazzi che studiavano. Tu, fra Raffaele, lì ci sei stato e soprattutto è un'occasione anche per parlare dell'importanza anche dell'istruzione, di avere delle scuole per il futuro di questi ragazzi. Certo, conosco bene quel collegio che Padre Leone ha costruito e che ha denominato Collegio Italia, proprio in onore dell'Italia. Ecco, perché noi frati lì nel Chad abbiamo costruito le scuole? Non è soltanto il collegio, il liceo, ma ci sono anche le scuole minori, come dire, quelle che sono paragonate alle elementari o anche le scuole medie nostre. Sono le cosiddette scuole cattoliche, le CA si chiamano, ecole catholique. Quindi queste scuole cattoliche hanno questo scopo dove noi stessi siamo quelli che formiamo certamente i maestri, perché non c'è un equilibrio, fra Antonio lo ha detto, ecco ci sono le scuole dello Stato e le scuole nostre, quelle cattoliche, perché quelle nostre abbiamo dei maestri veramente formati e i ragazzi che escono da quelle scuole sono ragazzi ben preparati. Infatti anche da grandi quando vanno all'università si vede già la differenza di quelli che hanno seguito le nostre scuole, perché nelle scuole statali succede sempre questo, un giorno il maestro è ammalato, un giorno va al mercato, un giorno è la loro mentalità, cioè quasi oziare e stanno lì molte volte solo per lo stipendio e non sono interessati veramente a seguire i ragazzi come si deve. Ecco, allora noi la Chiesa ha sempre fatto questo lavoro di, almeno nei grandi centri, nei centri più grandi dove abbiamo più popolazione, più inesità e con dei villaggi che intorno, che è bello poi vedere quelle scene la mattina quando vedevi dai sentieri di campagna che spuntavano tanti ragazzi che andavano a scuola e questa è la possibilità che abbiamo dato a tanti ragazzi, ma soprattutto questa possibilità è stata fatta, grazie, ecco, Frantonio lo sottolineava prima, al contributo di tanta gente, perché far costruire le scuole significa scommettere sul paese, educare significa vincere tutte quelle miserie e quelle povertà che ci sono nel mondo attualmente e ancora adesso. La formazione è sicuramente un passaggio fondamentale di crescita, questo vale per tutti ovviamente. Fra Francesco, prima accennavo al tuo libro, 70 anni in Mozambico per la liberazione dell'uomo, lo faccio vedere qui ancora una volta, è davvero un viaggio straordinario di storia, di umanità, c'è tutto, si può davvero ripercorrere un pezzo di storia importante. Tu in Mozambico ci sei stato quasi 30 anni, dal 1970 al 1998. Mi racconti un po' il primo impatto appena sei arrivato lì. Beh, evidentemente sono ricordi forti, dirò così, veramente il primo impatto, che sembra una cosa così superficiale, invece poi ha segnato un po' la mia vita, ha segnato un po', mi ha dato delle dritte dopo, lì per lì sono rimasto un po' deluso, diciamo. Io sono arrivato a Beira, la seconda città del Mozambico e siamo stati sistemati in hotel perché dovevamo andare poi più su ancora a Kelimane e a un certo punto decidiamo, eravamo in tre, eravamo in tre frati, uno di questi è padre Camillo di cui forse parleremo, quello il martire del Mozambico insieme ad altri due e l'altro frate che anche lui adesso in paradiso è stato segretario delle missioni in questi tanti anni, decidiamo di andare al cinema, andiamo al cinema, non c'era un mozambicano in quel cinema, diciamo così un nero, non c'era, aria condizionata, persone di alta società per dire, era una società coloniale in ogni caso, e siamo rimasti delussi, abbiamo detto ma forse abbiamo sbagliato, abbiamo sbagliato... Destinazione. Destinazione, certamente. Ecco poi dopo, lungo il tempo, ho cominciato a capire delle cose, no? Piano piano comincio a capire che la società coloniale, diciamo, stiamo nel 1970, quando sono arrivato, aveva un determinato modo di essere e di agire, purtroppo non era quella la maniera come lo sentivamo tutti quanti noi, come lo abbiamo sentito tutti quanti noi, volevamo avere un'altra visione e proprio quelle immagini mi hanno dato un poco l'idea perché dovevamo veramente promuovere questa altra parte della società, la grande parte della società, quella mozambicana, con la sua cultura e col suo modo di essere, con le sue lingue, che erano chiamate i dialetti. Che tu parlavi, tu avevi studiato la lingua locale, quindi sei arrivato lì comunque preparato. Certo, certo, sì. Ho studiato, vabbè, ho avuto l'opportunità di studiarne due, di imparne due lingue. Quali sono le lingue che più parlate, lì dove sei stato tu? Diciamo, la lingua ufficiale è il portoghese, come ex colonia, le lingue nazionali sono almeno 150, per cui tu ti muovi a distanza di 70-80 chilometri e già non ti trovi più con la lingua, c'è un'altra lingua, un'altra cultura, perché la lingua è proprio segno di un'altra cultura, di un altro modo di vedere, di pensare e di girare, diciamo così, un po' il cervello. Poi vi racconteremo anche la strategia che ha usato Fra Francesco per integrarsi pienamente nella popolazione, però ci fermiamo solo qualche istante per una brevissima interruzione e poi torniamo ancora qui. E ritorniamo in diretta, stiamo parlando di missioni, lo stiamo facendo con Fra Raffaele Mangiacotti e l'ospite di questa puntata Fra Francesco Monticchio che ci stava già raccontando, abbiamo già iniziato il racconto della sua missione in Mozambico, prima dell'interruzione pubblicitaria ci siamo lasciati con un'anticipazione, ovvero quando Fra Francesco è arrivato lì in Mozambico, quindi all'inizio della sua missione, lui ha passato, pensate un po', ben due anni in Mozambico, correggimi se sbaglio, non dicendo che era un frate, un sacerdote, non presentandosi così, proprio perché voleva inserirsi nella popolazione, nella società, nella comunità senza nessun tipo di pregiudizio. Giusto Fra Francesco? Sì, sì, dopo quel primo incontro, impatto shock, diciamo, quella notte al cinema, che mi ha fatto, ripeto, lungo il tempo, lì per lì, non ci ho pensato, ho pensato soltanto ho detto va bene, questo è il mondo dove mi trovo. Dopo quell'impatto, diciamo, ho cominciato a sentire dentro che è il migliore. È successo un fatto molto importante per me, dopo qualche giorno che ero arrivato in Mozambico non so perché mi trovavo da solo in missione ed è venuta una signora che mi chiedeva, mi ha fatto capire, io allora non parlavo comunque la lingua cisena, la lingua del posto, ero appena arrivato e non capivo che cosa volesse, comunque mi fece capire che voleva qualcosa da mangiare. Era la fine di settembre e quindi cominciava il tempo della fame. Lei per farmi capire si alza la blusa e mi fa vedere due fettine di carne appese, così è la pancia tutta quanta ragrinzita. Io pensai e dissi boh, che faccio? Non ho niente, avevo l'abito, quest'abito, diciamo l'abito mio, andai nella mia stanza, lo piegai, gli ho dato un bacio e gliel'ho portato. Avevo paura che mi, come dire, me lo gettassi in faccia, ecco perché mi chiede pane e gli do un abito. Sta donna invece mi fa dei gesti che poi mi hanno spiegato, un gesto si chiama bulumundira, cioè lei si si rotola un poco a terra così, la tiro su perché capivo che era una cosa che a me mi impressionava, la tiro su e poi prende l'abito, ringrazia e se ne va. Quando si è sentito un poco non vista, non guardata, gettava in aria questo fagotto, faceva una piroetta di fidanza e se lo abbracciava. Questo gesto mi ha fatto pensare molto e ho detto, se la gente ha lo stomaco vuoto, come può pensare, come può riflettere, come può cercare, cerca soltanto da mangiare. E così pensai insieme, eravamo tre frati, abbiamo pensato, mettiamoci in cammino per i vari villaggi, per vedere come parlano, che cosa fanno, che cosa vivono, eccetera, eccetera. E poi cominceremo ad agire proprio in primo luogo per dare da mangiare, perché se lo stomaco è pieno la testa funziona. Si ragiona meglio, certo, assolutamente. E così praticamente ho passato due anni senza essere conosciuto, ho creato la prima cooperativa, abbiamo raccolto 20 tonnellate quell'anno, una cosa meravigliosa in ogni caso, 20 tonnellate di materiali, loro non avevano un magazzino e me lo portano in missione. Dopo qualche mese, mese e mese, avevano costruito il loro magazzino nel villaggio e vengono a prendere sto materiale che avevano depositato in missione. E vedo che facevano dei gesti, così, guardavano i loro segni. Dissi al mio interprete che ancora io parlavo appena appena, dico, ma perché state facendo tutte queste mosse, tutte queste cose? Dici a te che ti interessa, stai zitto, fatti i fatti tuoi. Bella cosa, dico, cominciamo bene. Bene, vedo, loro caricano, avevamo già un trattore, caricano, fanno i 4-5 viaggi, all'ultimo viaggio mi metto, io sono un motom che ho trovato in missione, un motom vecchio di quelli antichi che sai girare con i pedali e partiva. Vado, arrivo lì e tutti seduti mi aspettavano e mi dicono, ma, e noi dobbiamo farti delle domande? Sì, dico, va bene, cos'è? Perché non hai rubato? Perché non hai rubato? E perché avrei dovuto rubare? E no, tu dovevi rubare. E il tipo di palavre, diciamo, il modo di parlare, diciamo, ecco, nel mondo tradizionale, questo girato, domande di domande, eccetera, e fino alla fine, poi alla fine si riesce a capire che cosa voleva veramente. Bene, e perché avrei dovuto rubare? Perché sei un bianco. E il bianco, mi dicono un proverbio in Cisena, dicono, il bianco è come l'ape, è dolce, ma punge. E quindi tu dovevi rubare. Dico, non ho rubato, ma una cosa sicuramente c'è stata, vi ricordate mi avete dato due pannocchie di gran turco, io me le so legate e me ne sono andato contento. per non portarla troppo alla lunga, mi dicono, vabbè, si alza un vecchio e dice, vabbè, questo, la pelle è bianca, ma il cuore è nero. Veramente, guardai un po' il mio motorino per vedere come scappare, avevo 27 anni, lo dico chiaro e tonno, non avevi paura. Perché quello era un processo che avevano scoperto a un certo punto e tu ovviamente eri lì dovevi difenderti e quindi hai avuto ovviamente anche una grande paura nel vivere quel momento. Però alla fine... Poi alla fine, evidentemente, l'altro anziano si alzò e disse, bene, se tu vuoi fare quello che facevano, ma tu, ecco, mi dissero, tu chi sei? Dico, io sono Francesco, mi conoscete? Ma chi sei? E dico, Francesco, che fai? Dico, ma voi dove avete lasciato il vostro materiale? In missione. E in missione chi ci abita? I missionari. E io che cosa sono? Ah, allora, vabbè, se vuoi fare quello che facevano gli antichi tuoi padri, fallo con noi, lascia stare i bambini. Non ti preoccupare, perché, lo dico, perché è bello anche questo, dice, tanto noi i bambini glieli mandavamo a quegli tuoi colleghi, perché bambino con bambini sono le lezioni che ti davano, no? Tu a un certo punto però hai fatto un esperimento, hai chiesto una specie di votazione, hai detto, allora, chi vuole seguire la strada della religione, essere battezzato, si metta da una parte, chi vuole solo lavorare, si metta da un'altra parte, chi vuole tutte e due le cose, si metta al centro. E la cosa straordinaria è che poi tutti si sono messi al centro. Tutti, eccetto uno. Eccetto uno. E da lì, ovviamente, è iniziata la tua straordinaria avventura. Fra Raffaele, hai provato anche tu, hai trovato anche tu, immagino, hai provato il sentimento di una diffidenza magari iniziale che poi si è trasformata in una grande amicizia? Beh, certo, all'inizio quando si arriva il mondo è sconosciuto e devi sempre osservare, studiare e molte cose, tra l'altro, non le capisci. Io ricordo la mia prima uscita con una suora, mentre andammo a preparare queste persone che si dovevano sposare e ricevere il battesimo di marzo a Pasquano. La suora aveva chiesto se la moglie avesse dato già dei bambini. Io rimasi scioccato. Ma come? Che ci sono i rapporti prematrimoniali qui così? Prima del... no? Non conosci la cultura, qui si devono prima, fanno prima il matrimonio tradizionale e dopo arrivano a quello cattolico, perché se una donna non dà i bambini è segno di sterilità, che poi accusano sempre la donna, ma in realtà è anche l'uomo che può essere sterile, no? E allora poi questo matrimonio si scioglie e noi rischiamo che ci sia poi il divorzio e quei vescovi vanno in questa direzione. Allora tu piano piano entri, capisci la cultura, perché noi andiamo con il nostro bagaglio, la nostra esperienza culturale dall'Italia e arrivi sul posto e trovi che è tutta un'altra cosa. A proposito di questo, mi hai offerto un gancio giusto, voglio farvi ascoltare proprio le parole di Papa Francesco, pronunciate nel corso di una delle ultime udienze, in cui dice bisogna essere capaci di annunciare la buona notizia rispettando ciò che di buono e di vero esiste nelle culture, appunto quello che dicevamo adesso, cioè l'incontro tra culture, il rispetto tra culture senza avere la pretesa di essere quella dominante. Ascoltiamo queste parole. Nella chiamata alla libertà scopriamo il vero senso dell'inculturazione del Vangelo. Qual è il vero senso dell'inculturazione del Vangelo? Che il Vangelo prende la cultura nella quale vive la comunità cristiana e parla di Cristo ma con quella cultura. E qual è il vero senso di questa inculturazione? Essere capaci di annunciare la buona notizia di Cristo Salvatore rispettando ciò che di buono e di vero esiste nelle culture. Non è una cosa facile. Sono tante le tentazioni di voler imporre il proprio modello di vita come se fosse il più evoluto e il più appettibile. Quanti errori sono stati compiuti nella storia dell'evangelizzazione volendo imporre un solo modello culturale? La uniformità. E questo, la uniformità come regola di vita non è cristiano. L'unità sì. Unità sì, uniformità no. Unità sì, uniformità no. Credo che si racchiuda benissimo anche il senso poi dell'essere missionario. Mi ritrovo in questo evidentemente. Perché, come devo dire, la nostra posizione al primo momento, se non ti accorgi è come dire vado e porto. No, vado e ricevo. Veramente io ho avuto un poco la fortuna, diciamo. La chiamo fortuna, è una parola che scrivo grande così a maiuscolo tutte per le due pagine del giornale perché c'è il Signore che ti fa questi regali. in uno dei momenti in cui cominciavo a lavorare direttamente, già conosciuto come sacerdote eccetera avevo detto, correggetemi quando sbaglio le... a parlare e anche quando sbaglio gesti, parole, fatti che faccio eccetera ne avevo fatto una di quelle mie. Facciamo subito così. Una signora mi viene addosso, mi viene vicino e dice buongiorno padre. E allora disse, senti, guardami, va bene. Aveva un vaso di terracotta in testa, se lo prese, lo buttò a terra, si ruppe naturalmente e mi disse, ti vedi? Tutti questi cocci, questi pezzi sei tu. Se tu vuoi, ti ricostruiamo a maniera nostra. Ne sarai contento. A questo punto ti viene un po' la paura, un po' il dubbio, un po' dove vado, come mi oriento in questo mondo che non conosco. E ci capitò appunto in missione, tra noi, che ci raccontavamo queste cose, di leggere il momento in cui Mosè vedeva il roveto ardente e Dio gli dice, Mosè, togli i sandali perché il suolo che tu calpesti è santo, è santo. Quindi anche un invito, come dire, a vivere, anche a mettersi in discussione. Togliarsi completamente della propria cultura, prendere il pennellino dei restauratori e andare a vedere da dove Dio era passato e che cosa aveva raccontato nel cuore di quella cultura, di quel mondo. E poi quindi l'annunzio del Vangelo. Noi dobbiamo restituire ancora una volta la linea alla regia per pochissimo tempo e poi torniamo ancora qui in compagnia di Don Giuseppe Pizzoli, direttore della Fondazione Missio. A fra pochissimo. Ritorniamo in diretta e diamo il benvenuto a Don Giuseppe Pizzoli, in collegamento da Roma per noi, direttore della Fondazione Missio. Buongiorno Don Giuseppe, bentrovato, benvenuto a Padre Pio TV. Buongiorno a tutti voi. Non so da quanto tempo è in collegamento se ha seguito quello che ci siamo detti pochi minuti prima della pubblicità. Abbiamo ascoltato un passaggio dell'udienza scorsa di Papa Francesco in cui ha invitato ad essere capaci di annunciare la buona notizia rispettando ciò che di buono e di vero esiste nelle culture. Ha fatto un appello alla unità e non alla uniformità. Volevo anche da parte sua una riflessione su questo. Diciamo che il modello della missione è cambiato radicalmente, in particolare dal Concilio Vaticano II in poi, dove nella riflessione della Chiesa sulla sua natura universale, il Concilio Vaticano II ha indicato come strada la missione come annuncio del Vangelo nelle varie culture e non semplicemente una esportazione della cultura occidentale europea insieme al Vangelo. Quindi un reincarnare il Vangelo nelle diverse culture. Questo è un processo che richiede molta pazienza, tempi lunghi, molta esperienza e anche molto rispetto per le culture, ogni cultura che nella sua storia, nel suo sviluppo, certamente ha già ricevuto da parte dello Spirito Santo quello che il Concilio Vaticano II chiama dei semi del Verbo di Dio. Quindi la presenza del Vangelo arriva prima dei missionari, arriva proprio per opera dello Spirito Santo, in piccole sementi che hanno bisogno da parte del missionario di essere coltivate, sviluppate, fatte crescere con l'annuncio esplicito del Vangelo di Gesù Cristo. Ecco Don Giuseppe, siamo in cammino verso la prossima giornata mondiale delle missioni che appunto domenica prossima il 24 ottobre. Testimoni e profeti, anche il filo conduttore, il tema scelto anche per quest'anno. Volevo aprire una parentesi importante però. Prima abbiamo aperto la nostra puntata parlando di scuola, parlando di formazione, esiste un centro unitario per la formazione missionaria che è appunto il CUM che ha proprio il compito di formare anche i missionari e comunque formare a questo compito, a questa chiamata che è molto importante. Sì, il CUM di Verona con il centro unitario di formazione missionaria ha compiuto quest'anno 60 anni di storia. È nato insieme al Concilio Vaticano II, è nato qualche anno prima come idea, era nato come idea di un seminario per sacerdoti diocesani italiani che si preparavano per la missione in particolare per l'America Latina. nato come seminario per l'America Latina. Poi il processo del Concilio Vaticano II ha fatto capire che forse non era necessario un seminario specifico per l'America Latina, era necessario che i seminaristi, i prezzi diocesani, si formassero nella loro diocesi, ben radicati nella loro chiesa di madre, e che comunque avesse una formazione specifica per poter affrontare quello che è l'impegno della evangelizzazione dei popoli nella missione ad Gentes. E quindi da questo è nato, dal seminario America Latina, si è trasformato in un centro di formazione missionaria prima all'inizio degli anni, prima solo per l'America Latina e poi si è sviluppato come un centro unitario per l'America Latina, l'Asia, l'Africa e anche per l'Europa orientale. Voi avete scelto, Don Giuseppe, abbiamo ancora un minuto, però ci tengo a aprire una piccola parentesi. Avete scelto di fare il video di presentazione per questa giornata mondiale della missione dalla tomba di Don Tonino Bello ad Alessandro. Noi ne abbiamo visto anche qui un passaggio nella scorsa puntata grande testimone, grande profeta. Certo, il tema di quest'anno noi l'abbiamo scelto un po' in continuità con il mese missionario straordinario del 2019 quando Papa Francesco ci aveva proposto come tema battezzati e inviati ricordandosi che la vocazione battesimale è di tutti i battezzati. C'è anche la vocazione speciale di chi va, parte per la missione ad Gentes, ma la vocazione missionaria è di tutti i battezzati. Sviluppando un po' quel tema, l'anno scorso ci siamo detti inviati a fare che cosa? A essere tessitori di fraternità, vivere quindi il comandamento dell'amore e creare fraternità. Quest'anno, approfondendo ulteriormente, ci hanno detto inviati a fare che cosa? Ad essere testimoni del Vangelo di Gesù Cristo, quindi non tanto soltanto annunciatori con la parola, ma testimoni anche con la vita del Vangelo e profeti di una vita nuova, quella vita nuova che il Vangelo ci propone, quella vita nuova che è riassunta nel Vangelo con il tema del Regno di Dio. Regno di Dio che è vicino, che è già presente, ma che ancora ha bisogno del nostro lavoro, della nostra testimonianza per essere ulteriormente costruito e fatto crescere fino alla sua piena realizzazione che non sarà qui in questo mondo, ma sarà alla venuta definitiva di Gesù Cristo. Un po' questo è il tema, testimoni e profeti del Vangelo annunciatori di una vita nuova. Noi la ringraziamo Don Giuseppe per essere stato con noi, auguriamo a lei e a tutti voi un buon cammino, sperando che le nostre strade possano tornare ad incrociarsi. Grazie ancora. Grazie a voi, molto piacere, grazie. Allora, vi ho visto quando si parlava di Don Tonino Bello, vi ho visto annuire proprio convintamente un straordinario testimone, so che un po' nella vita di ciascuno di voi due ha segnato ed entrato in modo particolare. Un pensiero velocissimo. Sì, va bene, Don Tonino, io l'ho conosciuto nel 1968, 68-70, io ero ad Alessano e lui era parroco a Tricase. Siamo amici. Dico, lo siamo ancora, ecco, lo sento sempre. Questo siamo amici. Siamo amici. Fra Raffaele, anche per te Don Tonino so che è una figura di riferimento importante. Io di Don Tonino mi ricordo quando ero giovanotto, quando non era ancora frato, lui all'epoca faceva quei programmi alla RAI, mi pare che ascolta, si fa sera, e mi affascinavano tanto. Ho detto, quest'uomo è particolare e poi quando sono diventato frate, soprattutto quando sono stato nella loro provincia per gli studi di teologia a Santa Fara, ecco, abbiamo avuto occasione di andare anche ad Alessano, di leggere un po' i suoi scritti che mi hanno talmente affascinato, perché è un uomo veramente grande e mi meraviglio, perché ancora, non è ancora santo. A me questo... Confidiamo che lo sarà presto. Allora, a proposito di testimoni e profeti, possiamo tutti essere testimoni, anche non solo i religiosi, ma anche noi laici, spesso si ha, come dire, quella comodità di affidare a voi i compiti, come dire, di essere testimoni, di andare a portare la buona novella. Invece possiamo farlo tutti, siamo chiamati a farlo tutti e allora noi abbiamo voluto raccogliere la testimonianza di una persona che ha iniziato prima a fare il volontario nella missione dei frati Cappuccini di Sant'Angelo, della provincia di Sant'Angelo e Padre Pio, andando qualche mese così sporadicamente, voi i frati di questa provincia lo conoscete tutti, poi invece ha passato ben dieci anni e allora noi abbiamo voluto chiedere a lui che cosa la missione gli ha regalato. Ascoltiamolo insieme. L'esperienza è sempre positiva, ci incontrano innanzitutto culture e persone diverse. Abbiamo bisogno gli uni degli altri e questa è la mia esperienza sia nei villaggi il contatto con i bambini, con le signore e anche con quelli che stavano quando si frequentavano quando andavamo per la messa domenicale e avevamo questo rapporto con i locali ed è stato molto bello perché loro ti davano sempre qualche cosa, qualche cosa, ma di che cosa? Mica materiale, spirituale, che ti facevano vedere anche nella loro povertà materiale e loro avevano dei valori che noi qualche volta noi non li avevamo perché avevamo qualche volta occupato da altre diciamo, faccende tra tante cose inutili che abbiamo qua diciamo in Italia, la loro non era e loro si accontentavano di queste cose semplici ma diciamo vitali e questo mi ha colpito moltissimo. Grazie a Mariano Riarossi per avercelo raccontato perché in effetti questa è una cosa che colpisce tantissimo, relativizza anche i nostri falsi bisogni occidentali, ci mette di fronte realtà diverse che ci interrogano. L'abbiamo intercettato proprio al banchetto che è qui in santuario allestito appunto per l'ottobre missionario dove c'è la possibilità anche di approfondire quelle che sono le attività dei frati Cappuccini della provincia di Sant'Angelo e Padre Pio nelle missioni in Chad e in Centrafrica. Abbiamo 30 secondi io vi ringrazio per essere stati con noi grazie Fra Francesco per aver portato la tua testimonianza grazie ovviamente come sempre a Fra Raffaele per accompagnarci e farci da guida in questo mondo. Allora con Fra Raffaele noi ci vediamo tutti i venerdì quindi 10 secondi li lasciamo per Cavalleria a Fra Francesco una chiusura velocissima un messaggio una parola chiave un pensiero che porrà chiudere l'importanza di essere missionari ma missionari tutti nella nostra vita di cristiani sì perché beh partirei da Don Tonino perché ma deve essere una cosa velocissima altrimenti la regia mi bacca con Don Tonino avevo appunto questo mio rapporto che mi ha aiutato un poco ad avere questo questo sguardo attivo diciamo di ricerca nel mondo dei laici nella mia missione sono venuti per lo meno 30-40 persone laici che hanno lavorato l'ultimo è stato un ragazzo che c'è stato una decina di anni anche lui un odonto tecnico che ha fatto anche il dentista tutto questo fa sì che appunto il battesimo che abbiamo ricevuto si sviluppi in una forma integrale quando non soltanto frati suore i preti vanno in missione ma quando la chiesa si esprime appunto nei laici che sentono questa emergenza dell'annuncio e danno anche il loro tempo e la loro ricchezza grazie fra Francesco con fra Raffaele ci rivedremo venerdì prossimo a tutti voi grazie per averci seguito noi vi auguriamo un buon proseguimento di giornata con Padre Pio TV vi ricordiamo lo spazio dell'informazione subito dopo questa interruzione grazie a tutti